L'incidente nella mattinata di mercoledì 27 maggio, intorno alle 11, all'incrocio tra via Bertano, corso Vittorio Emanuele II e via Aldomoro tra Olianico e Fabria. A scontrarsi un furgone Renault Trafic e un Fiat Dublò, quest'ultimo avuto la peggio finendo la soccorsa ribaltata a bordo strada. Immediati i soccorsi dei Vigili del Fuoco di Ivrea, la Croce Rossa di Rivarolo Canavese, l'elisoccorso del 118 e i Carabinieri di Quornier e Rivarolo. Sia la donna, una 63enne di Ponte Canavese, che era la guida del Dublò, che l'uomo, un 50enne di Rivarolo Canavese, alla guida del furgone, sono stati trasportati all'ospedale di Ciriè in codice verde. Ha certamente in corso sulla dinamica. Grazie. 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 Grazie.